Sì, premesso che la materia mi sembra che meriti una rimeditazione seria, io ricordo che già tempo fa ci furono, devo dire, importanti discussioni sull'argomento della meritevolezza o meno di una sanzione penale carceraria per quanto riguarda la responsabilità del direttore. E ricordo anche che c'erano tutta una serie di soluzioni che prevedevano sanzioni diverse da quella penale detentiva. Il tema oltretutto è condiviso in sede europea perché ci sono delle decisioni di Strasburgo che confermano che vi sarebbe una netta preferenza per sanzioni non di carattere penale detentivo. E quindi mi sembra che il tema sia molto maturo per essere portato al Parlamento per una decisione. Le soluzioni possibili sono quelle di riprendere il disegno di legge che è già pendente qui in Parlamento, calendarizzarlo velocemente ed intervenire su quello. Un'altra potrebbe essere la presentazione di un disegno di legge da parte del Governo, anche questa è una strada percorribile. Io penso che la strada del ripresaggio del provvedimento che è pendente in Parlamento potrebbe anche consentire una soluzione rapida magari con una sede deliberante in commissione. Potrebbe questa essere una soluzione estremamente significativa. Io credo che i mezzi per intervenire ci siano, l'intesa di massima sui contenuti c'è, credo che i tempi siano maturi per un intervento normativo su questo settore.